Scarica l'app di Juventus News 24, l'informazione sportiva 100% bianconera. Piacevole, ricca di passione, ricca di tanti colori bianco e neri, ritrovare l'affetto dei tifosi dopo così tanto tempo è sempre bello. Ritrovare gli amici di mille battaglie è altrettanto bello, una serata speciale. E che gran gol per inaugurare il tifosi. Ogni tanto qualche giorno lo pesco anch'io, stasera l'ho pescato. Ma secondo me può fare molto bene, è una squadra che deve crescere sotto certi punti di vista, però l'ossatura c'è, ha lo spazio di lavorare durante la settimana per preparare la partita e credo che possa fare un ottimo campionato. No, non mi piace fare paragoni con me e con i giocatori di altri tempi. Io credo nell'unicità di ogni singolo giocatore, credo che nella rosa attuale ci siano dei grandissimi giocatori e speriamo che lo dimostrano per tutta la stagione. Ma è un piacere, noi ci divertiamo tanto, soprattutto non in campo perché lì lo spirito c'è ancora quello di una volta, però c'è solo lo spirito, non ci sono le gambe, manca qualcosina, però la gogliardia, la voglia di stare insieme, di divertirsi, l'avete visto tutti.